TG Padova 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 Allora vediamo questa foto, lei è Francesca Battaglina, una giovane ricercatrice dello IOV, IOV che ha partecipato all'ASCO 2018, il più importante simposio internazionale per quanto riguarda la cura e la ricerca contro il cancro, contro i tumori. Francesca si è portata a casa al Merit Award per il suo studio sulle variazioni genetiche nel tumore del colon, quindi un risultato importante sul fronte della ricerca, brava Francesca e naturalmente bravi a tutti gli oncologi dello IOV che in prima linea si battono contro i tumori per aiutare la gente. Adesso parliamo del giugno, Antoniano a Padova, vediamo. La sorelle processione il 13 giugno, la sera precedente, ricordo del transito del Santo che morente da Camposampiero era partito alla volta della città, momenti preceduti dalla solenne tredicina. Padova si ferma per celebrare e pregare Antonio, rivolgendosi e affidandosi alla sua protezione. Lo fa la comunità religiosa dei frati del Santo, lo fa anche la comunità civile. Da 12 anni la collaborazione era chiusa negli eventi del giugno, Antoniano. Un santo con le cuffiette nel manifesto, chiaro riferimento al filo conduttore, richiamo per i giovani. Un santo che amava il bello e che si inserisce a pieno titolo con la sua basilica e gli scrigni di bellezza della sua piazza nel percorso dell'Urbs Picta che vuole consacrare la città tra le capitali della fresco medievale. Le proposte del giugno, Antoniano, riguardano in particolare poi la dimensione, chiamiamola così, della bellezza. Ecco, qui siamo nell'oratorio di San Giorgio. È uno scrigno di pittura che fa parte di questo progetto padovano dell'Urbs Picta come patrimonio universale. Quindi il giugno Antoniano, oltre alle manifestazioni, diciamo così, culturali, ecco, è attento alla bellezza, alla bellezza anche della liturgia. E sarà dedicato ai giovani il momento finale del giugno Antoniano. Molte delle iniziative che noi promuoviamo a livello di concerti, a livello di guide, a livello di proposte, saranno dedicate ai giovani. Segnarli in particolare il 22 giugno, concerto finale del giugno Antoniano con i The Sun, un gruppo che coniuga il rock con anche la testimonianza di fede. Percorso di bellezza, arte e cultura, ma il vero cuore resta un altro. Vorrei ricordare la grande fede, la grande devozione che attorno al santo sempre si rinnova. Faccio vedere queste immagini per chiudere il telegiornale. La nuova frontiera delle installazioni artistiche. Prendi una bella macchina rasa erba, prendi dei blocchi di paglia e inizia a fare quello che ti piace, cioè un'opera di land art. È l'ultima frontiera dal punto di vista delle installazioni artistiche. Sono queste opere d'arte disegnate su campi, incolti come questo, oppure campi dove si coltiva anche qualche ortaggio. Sono installazioni che vengono realizzate in mezzo alla natura, l'ultima frontiera di questa nuova forma di arte, land art. Occhio che magari da un giorno all'altro il vostro giardino potrebbe trasformarsi in un'opera artistica a cielo aperto. Magari fate anche quattro soldi. A parte le battute, siamo in chiusura. Grazie per la vostra cortesa attenzione e per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre su Rete Veneta.